Buonasera dallo Stadio Friuli di Udine. Tutte le emozioni di Udinese Torino. Il cross sul secondo palo. Quagliarella ed è il gol dell'Udinese. 1-0 per l'Udinese. Il gol di Floro Flores. Il primo gol di Floro con la maglia dell'Udinese. La palla in mezzo. Il pallone che sibila alla sinistra del palo di Andanovic. Non lo tocca nessuno. In attacco adesso l'Udinese con Lucovic. La giocata di Di Natale a cercare Dossena. Un grandissimo cross sul secondo palo. Non ci arriva Floro Flores. Palla ancora buona per Mesto. L'anticipo di Vailati. Hiller. Altro pallone riconquistato dallo Svizzero. Ancora con D'Agostino. Adesso c'è un contatto e l'ha visto l'arbitro. Il cartellino è rosso. Ma con Hiller. La scalciata con Hiller. La partita di Vailati. Finisce qui. Il pallone in mezzo. Non è giocabile per Quagliarella. Ma invece sì per Dossena. Quagliarella resta in mezzo. Quagliarella col sinistro. Che occasione per l'Udinese. Buono il cross di Dossena. Bella girata di Quagliarella. Corini non va alla verticalizzazione. Prova adesso il lancio. È buono per Vento. La parte il destro. Occasione per il Toro. Calcio di punizione. Immediata la battuta. Attenzione a Hiller. Fa correre Di Natale. Hiller. Pallone sul destro. La parte allo Svizzero. Parte. E' un gol bellissimo di Gokan. Hiller che batte Sereni dalla distanza. 2-0 Udinese. E qui c'è un giallo. Attenzione. Altro giallo per Dossena. Ed è espulsione. Rosso. Malonga. In mezzo a tre. Buona giocata. Comotto. Buona per Ventola. Il pallone del 2-1. Palla in porta. E riapre la partita. Nicola Ventola col sinistro. Lucovic non si ferma. Lucovic entra in area. Palla dentro. Quagliarella. Floro Flores. Quasi un rigore. E la grande parata di Sereni. Esamoa. Libero Di Natale. Di Natale quasi un rigore con il sinistro. E Sereni glielo para. Mesto l'1-2. Buona per Di Natale con il destro. Ancora Sereni. Ancora Sereni su Di Natale. E potrebbe finire qui la partita. L'Udinese. Batte il Torino. 2-1. E' mi pe�. Du resıma. Mecabwe. Suri no capbrlo. ピ Ora. Puva.